Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di MidaSPA Oggi vi mostrerò questo gioco, farò l'unboxing di questo gioco, ossia di Starcraft 2 Un gioco che è uscito oramai da un po' di tempo, però noi lo faremo qui oggi Allora, per prima cosa invito subito a vedere la copertina su Jimmy Raynor Jimmy Raynor, che noi chiameremo per comodità Jimmy, il signor Jimmy Come possiamo vedere subito la copertina ci mostrerà un po' delle caratteristiche di questo gioco Ossia la straordinaria varietà di unità e gli incredibili scontri a base di esplosioni di cui questo gioco è composto Allora, ripercorriamo un pochino la storia con questo gioco Allora, noi praticamente sulla storia saremo all'inizio i Terran, la razza Terran Che sarebbero praticamente degli esseri umani che, naufragati, subendo un naufragio spaziale, diciamo, con astronavi Su un pianeta lontano dalla Terra Si ritrovano a dover edificare delle colonie Quindi decidono di espandersi sui pianeti circostanti Ad un certo punto cosa succede? Succede che un capo, diciamo, di questi sopravvissuti, che non mi ricordo bene il nome In un futuro remoto, nei più oscuri recessi dello spazio, i fantasmi del passato sussurrano il tuo nome Jim Raynor Ex Sherry Insomma, ragazzi, questo qua è un'introduzione della storia Io sicuramente avrò frainteso alcune parti Insomma, procediamo con l'unboxing Qui tranquilli, ci sono le solite immagini di, diciamo, propaganda del gioco Questo gioco qua l'ho preso da GameStop Infatti, ecco, l'abbiamo aperto Ok, tiriamo fuori la custodia Notate somiglianze? Notate somiglianze? No, perché è uguale, dentro e fuori è uguale Ok, questa qua, questa che è la copertina principale Buttiamo via Questa qua è la scatola del CD Ok, abbiamo in mano la scatola del CD di Stack Off 2 Come potete vedere, le immagini che ci sono qua dietro sono le stesse che c'erano sulla scatola principale Con la piccola differenza che qua sotto ci sono anche i requisiti di sistema Che invece sull'altra scatola non c'erano Non chiedetemi perché Allora, qui c'è il CD Tiriamo fuori il foglietto introduttivo Il CD lo chiediamo Questo qua serve al computer, non serve a noi Via Ok, allora Ecco qua Il foglietto introduttivo Scusate, c'ho il cavalletto della telecamera Che mi sta praticamente in bocca Ah, ecco qua È il primo video che faccio con il cavalletto fatto così Molto bene Così ci dovremmo essere, mi pare Sì, ok Allora Qui c'è di nuovo una piccola introduzione della storia Ossia Jim Ray Olex Riffo Diventato Diventato ribelle E impegnato in uno scontro senza quartiere Per abbattere il dominio del superfido leader Arcutu Ma chi è che li sceglie questi noi? No, me lo spiegate A parte Jim Raynor e quegli altri Arcuturus Magrchef Qualcuno pensa che Ossessionato dal tradimento e dal rimorso Tu abbia rinunciato a lottare Ma hai delle promesse da mantenere Sì È una serie di vendetta che Ha atteso troppo a lungo Va bene Per iniziare Ah, sì Qua ci danno tutte le indicazioni Per l'installazione Che noi non sapevamo Che il cd servisse per il computer Infatti L'abbiamo appena buttato via E Allora Crea un account e battle.net Aggiungi il gioco Entra in azione Entra in la comunità La comunità Ti serve aiuto? No, grazie Ok Starcraft 2 Starcraft 2 Un titolo Sulla quale Il mio canale Probabilmente Vi farà sapere Abbastanza Nel prossimo periodo E Ci vedremo Prossimamente Con Starcraft 2 Spero facendo un gameplay Qualcosa E Vedremo un po' Come Come si struttura questo gioco Allora Imparare a giocare Già so che non sarà Troppo facile Perché Questo gioco Diciamo Non è Un normale strategico Infatti Mi lascia Sotto alcuni aspetti Diciamo Di strategie Mi lascia un po' perplesso E' un gioco che Conto Mi faccia divertire Parecchio Perciò penso di giocarci Parecchio anche questo E Questa qua E' solo la versione base Cioè Wings of Liberty Mentre La espansione L'espansione Non me la sono comprata Troverete Wings of Liberty Al GameStop Il vostro Venditore di videogiochi Di fiducia Il mio GameStop GameStop 20,98€ Mi pare Versione La versione base Mentre l'espansione Ultimamente è salita Fino a 40€ Quindi pensate un po' L'espansione In quanti se la sono Pre In quanti se la sono comprata Conoscendo le regole Di mercato Quindi Ragazzi Insomma Damida E' tutto E Al prossimo video